Ed è stato rintracciato e fermato a Cartoceto il ragazzo che ieri sera a lungo la Flaminia a Cucurano di Fano era scappato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Si tratta di un 33enne del posto originario della Lettonia. Nello scontro avvenuto intorno alle 19.20 erano rimaste coinvolte due auto, una Opel Zaffira, ferma lo stop di Via Rivelli, e una Fiat Panda di colore verde condotta dal fuggitivo che all'altezza della farmacia aveva perso il controllo della vettura finendo contro l'altro veicolo. La Panda, dagli accertamenti dei carabinieri di Colli al Metauro e della polizia locale di Fano intervenuti sul posto, è risultata rubata a Cartoceto. L'auto, che poi è stata sottoposta a sequestro, appartiene al titolare della gastronomia Beltrani. Ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, i dipendenti dell'azienda avevano visto qualcuno prendere il veicolo e partire a tutta velocità, ma credevano che fosse stato proprio uno dei dipendenti. Invece, dopo 15 minuti, avevano realizzato quanto accaduto e sporto denuncia. Il giovane, individuato grazie alle immagini registrate dalle videocamere della farmacia, ha ammesso le sue responsabilità ai militari. Il 33enne, con precedenti penali, è stato quindi denunciato a piede libero.